Visto che oggi i soggetti più colpiti dalla variante Omicron sono i bambini, che sono quelli che fino al 16 dicembre non potevano vaccinarsi, allora in questo momento, avendo anche nelle scuole tanti purtroppo casi di contagio e quindi che mettono a rischio proprio l'attività didattica in presenza, volevamo aderire proprio per dare un segnale che la scuola comunque sia è disponibile a aiutare questa campagna e mettendo a disposizione i propri ambienti, i propri locali, dando la propria avvicinanza alle famiglie e sostenendo la campagna vaccinale che si dovrebbe svolgere, che prevede da qui a breve la vaccinazione di tutti i bambini di questa fascia d'età. I bambini per adesso si mettono con i genitori, naturalmente con l'autorizzazione di entrambi i genitori, sono già telefonati in tanti, anche di altre scuole, delle scuole vicine, per questo servizio e c'è una risposta molto interessante, però più che la quantità è anche proprio il segnale che si vuol dare, che comunque sia per uscire da questa fase emergenziale e la vaccinazione, come dicono da più parti, la comunità scientifica e altro, la vaccinazione è in qualche modo la soluzione, ecco per cui sperando con questo di poter tornare alla normalità.